Ci sono due limiti all'indebitamento, uno sono le imposte personali che possono ridurre la convenienza dello scudo fiscale del debito, nel senso che dipende quando poi l'investitore, cioè il detentore delle obbligazioni, paga sugli interessi che percepisce, perché è vero che l'azienda li deduce, però chi li percepisce, cioè l'investitore persona fisica, ci paga le tasse in cima. Inoltre l'aumento sconsiderato del debito può portare al fallimento o al dissesto, ovviamente quando c'è un fallimento e quando c'è un dissesto è molto costoso perché perdi l'azienda. In conclusione la risposta che ci eravamo dati prima, vedete la cambiamo continuamente, saltiamo continuamente un passo in avanti, abbiamo partito dicendo che non importa quanto debito e quante azioni, se non ci sono imposte. Poi abbiamo introdotto le imposte e abbiamo detto che c'è un vantaggio fiscale del debito, poi ci siamo chiesti, ma è vero che l'azienda ha un vantaggio fiscale, però il percettore dei dividendi ha uno svantaggio fiscale, perché poi ci paga le tasse in cima. Allora qual è il compito dell'azienda? Il compito dell'azienda è quello di minimizzare il carico fiscale anche degli individui che percepiscono redditi e quindi minimizzare a valore attuale tutte le imposte anche personali e non solo quelle sul reddito dell'impresa. Cioè l'azienda deve tenere conto che poi alla fine ci sono dei cristiani che ci pagano le tasse in cima su queste obbligazioni e quindi questo lo deve considerare. Quindi noi eravamo partiti da una situazione in cui avevamo la retta magenta, retta magenta, voi vedete questo è un grafico tratto dal manuale di Ilie Ross, che è uno dei due manuali che va per la maggiore, voi vedete che il valore dell'azienda senza debito, dove c'è VU unleveraged, è questo, nel senso che se non c'è debito ovviamente all'aumentare del debito totale il valore dell'azienda che è sulle ordinate rimane costante, ce lo siamo detti prima, non c'hai debito, il valore dell'azienda non dipende dal debito totale. Però se noi invece andiamo a tenere conto del valore leveraged, cioè col debito, il valore leveraged che è la retta gialla, è uguale al valore unleveraged, VU, quindi la parte rosa, più TC per D, ovviamente TC per D è una retta inclinata positivamente, che vi dà l'idea del vantaggio attuale, del valore attuale e del vantaggio fiscale. Dove veramente TC, che è l'imposta, è la derivata della linea gialla. Quindi diciamo, se noi togliamo le tasse, passiamo, se noi teniamo in considerazione le tasse, passiamo ad una stazione linea magenta, linea gialla. Quindi il valore dell'azienda aumenta, in maniera proporzionale, in maniera lineare, all'aumentare del debito totale. E questo ovviamente è uno dei famosi sei casi che abbiamo visto. Noi abbiamo visto nella proposizione 2, vedete che in questo nuovo grafico noi abbiamo sulle ordinate, il costo del capitale aziendale, e sulle ascisse abbiamo il rapporto debito capitale. Poi voi vedete che abbiamo RE, che è il rendimento richiesto dagli azionisti, che aumenta all'aumentare del rapporto debito capitale azionario, dove RE, che è il rendimento richiesto dagli azionisti nell'azienda Unlevered, e RD è il rendimento richiesto dagli obbligazionisti. E noi vediamo che in questo caso il WAC scende, per effetto della seconda proposizione, scende linearmente e poi va in maniera sintotica un po' sopra la curva RD. Perché ovviamente più aumenta DE, più scende il WAC e tende a RD. e nel caso in cui debito al 100% il capitale, il WAC è uguale a RD. Questo è un primo dei passi della proposizione 2. È un affinamento di quello che abbiamo detto prima. Prima abbiamo detto che il WAC era stabile, abbiamo detto che adesso scende un po' e poi va in orizzontale, perché tiene conto del beneficio fiscale. Allora, adesso arriviamo al grafico conclusivo. Il grafico conclusivo è quello che vi dà la risposta a tutto quello di cui abbiamo parlato stamattina. Sostanzialmente vedete che abbiamo in ordinata il valore dell'azienda e in ascissa abbiamo il debito totale. Abbiamo la linea verde che è il valore dell'azienda senza debito e abbiamo la linea azzurra che è il valore dell'azienda tenuto conto del valore attuale del beneficio fiscale. Quindi value leveraged con debito uguale a value unleveraged, quindi la linea verde, più TC per DI che esprime questa linea, infatti dove poi questa linea azzurra incontra quella verde, V uguale a VL, qui sull'asse delle ordinate. Allora, che cosa succede? Succede che, diciamo che un'azienda valga mille, no? Quest'azienda in caso di fallimento viene sottoposta a una procedura concursuale. Procedura concursuale che può durare diversi anni, perché ovviamente il curatore fallimentare deve fare l'auditi dei conti, vedere se ci sono delle ruberie, delle malversazioni, una banca rotta sostanzialmente. Deve ricostruire lo stato dei creditori, perché devono avere i soldi, quanti li devono avere, quando è nato il loro credito. Poi deve vendere gli asset dell'azienda in asta giudiziaria e infine liquidare e pagare tutti i creditori. Quindi in Italia andiamo dai 5 ai 10 anni. Quindi se l'azienda vale mille, non è che se vai in una procedura fallimentare i creditori incassano mille, perché già lo incassano dopo 10 anni, quindi se vale mille oggi e ti incasso tra 10 anni, il valore tra 10 anni oggi dovrà essere scontato. Ma ci sono dei costi, perché il curatore fallimentare costa, perché costa l'ufficiale giudiziario, perché costano gli avvocati e la rava e la fava, alla fine ci si lascia il 50, il 60%, il 40% del valore in questo processo. Quindi questi si chiamano i costi del dissesto. Quindi sostanzialmente che cosa succede? Succede che all'aumentare del debito, la nostra curva azzurra a un certo punto, quando il rischio di fallire, quindi di incappare in questo massacro dei valori aziendali, diventa consistente, questo financial distress va a prima pareggiare il vantaggio dello scudo fiscale che vedete fa alzare la nostra curva azzurra. A un certo punto più aumenta il debito, quindi più aumenta la probabilità di saltare per aria, la nostra retta a azzurra viene piegata proprio da questi costi di fallimento, i costi della crisi. Quindi la curva che noi consideriamo è quella viola, che è la curva che voi dovete tenere a mente. Quindi nella curva viola esiste un punto D che è il punto ottimale del debito, cioè esiste un debito ottimale, che è quello superato il quale i costi del fallimento iniziano a più che compensare i vantaggi fiscali del debito e quindi fanno piegare il valore della firm. Quindi in cui esiste un debito, secondo questa teoria, che massimizza il valore dell'azienda. Oltre a quell'importo totale di debito, il valore dell'azienda inizia a declinare perché aumentano i costi del possibile fallimento. ovviamente noi possiamo vedere in questo grafico lo stesso sopra, lo stesso grafico di prima, sempre dal libro di Lieros. Sotto lo vediamo con la Weighted Average Cost of Capital e qui è molto interessata perché vedete i tre casi. vedete il caso in cui non ci sono le tasse e poi in questo mondo idilliaco per cui il Weighted Average Cost of Capital rimane sempre uguale nel caso in cui aumenta il rapporto debito capitale azionario, il mondo dei puffi della fatta turchina. Poi abbiamo il caso numero due in cui c'è un beneficio delle tasse, per cui vedete che il Weighted Average Cost of Capital in un primo momento scende per poi tendere assintoticamente verso quello che è RD. Poi invece quando il caso 3, che è quello che abbiamo analizzato adesso, non più solo col vantaggio fiscale che è il caso 2, ma il caso 3 è quello che tiene conto del vantaggio fiscale e dei costi del fallimento. Quindi quando io nel caso 3 introduco i costi del fallimento, voi vedete che il Weighted Average Cost of Capital, che abbiamo detto all'inizio, è quello che ha il denominatore e quindi è quello che dobbiamo minimizzare per massimizzare il valore dell'azienda, perché il valore dell'azienda è flussi di cassa fratto WAC. Quindi se noi minimizziamo il WAC o massimizziamo i flussi di cassa, massimizziamo il valore dell'azienda. E quindi voi vedete che nel terzo caso, che è quello che tiene conto il vantaggio fiscale più i costi di fallimento, ripeto, all'esaurimento, noi abbiamo un punto minimo del WAC, che è il punto minimo del WAC che ci massimizza, in questo grafico, il valore dell'azienda. Ok? Quindi noi siamo partiti dal mondo fattato della fata turchina e dei puffi, dei nani sotto l'albero del vostro giardino, per arrivare al mondo delle realtà in cui esiste un valore assoluto del debito che massimizza il valore dell'azienda. Come è fissato questo valore del debito, è il flesso della curva, là nel punto in cui il minuto successivo i costi del dissesto, i costi del fallimento, più che compensano quelli che sono i vantaggi fiscali del debito.